Con questo piccolo video vi vogliamo fare gli auguri di Buon Natale da parte nostra e da questa piccola parte della scuola che ha partecipato a questo balletto per salutarci, per darci Buon Natale, Buon Capolano, Buon Tutto quest'anno purtroppo è una cosa Auguri da me e da tutti noi Ciao a tutti Grazie 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 a tutti